avere un padre poco ortodosso non è una fortuna né una sfiga non si possono scegliere i genitori forse solo i padri spirituali o i maestri anzi forse ti stacchi dai tuoi veri genitori solo quando trovi un padre spirituale che non è necessariamente un essere umano in carne ed ossa sono quel che sono non faccio la vita che fai te vivo ai margini della città io non vivo come te sono un poco di buono lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me yeah 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 avevo deciso di cercare un oggetto misterioso la mitica registrazione di una leggendaria session fra l'equipo 84 e il nero selvaggio e luminescente lo spirito stesso del rock il grande jimmy hendrix questa è una lampada dell'epoca del b bella psichedelico affascinante mi piace la voglio la compro quindi sto volendo non mi fermerò mai fino a che sarò da lei dico voi datemi un belietto da r o senti tu sei qualcosa di un misterioso nastro che riguarda una mitica registrazione di cui si vocifera una leggenda ma come sappiamo ogni leggenda un fondo di verità ma tu non credere mica quella stronzata lì avevo ragione qualcuno in nome del beat ci ha aiutato o sun beat grazie 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 grazie